L'evento è straordinario e da non perdere. Sul palco del Petruzzelli, a dirigere l'orchestra, sabato 13 dicembre ci sarà il maestro Riccardo Muti. Protagonista indiscusso della musica italiana ed internazionale, Muti dirigerà l'orchestra giovanile Luigi Cherubini. Il concerto rientra in una tournee che toccherà alcune delle realtà musicali dei teatri più significativi d'Italia, nel segno di un sempre più intenso rapporto fra il maestro Muti e l'orchestra che lui stesso ha fondato. Avere sul podio del Petruzzelli il maestro Muti, dichiara il sovrintendente della Fondazione Petruzzelli Massimo Biscardi, è per noi un onore e una grandissima gioia. Il mio auspicio è che questo sia solo l'inizio di una intensa collaborazione. La Puglia spicca nel calendario della tournee dove la Cherubini si esibirà, oltre che al Teatro Petruzzelli di Vari, anche a Foggia, mercoledì 10 dicembre ed Altamura, giovedì 11, in occasione dell'inaugurazione, dopo il progetto architettonico di restauro del Teatro Saverio Mercadante, per cui la Fondazione Petruzzelli curerà la stagione sinfonica 2015. Una tournee che abbiamo definito in tempi brevissimi, sottolinea Mario Salvagiani, presidente dell'orchestra, dopo la decisione del maestro Muti di rinunciare alla direzione dell'Aida all'Opera di Roma, per volersi dedicare da questo momento in poi in Italia soprattutto ai giovani musicisti della Cherubini. L'arrivo della blasonata orchestra giovanile e del suo prestigioso direttore rappresenta un evento importante per il Petruzzelli, già particolarmente attivo in verità dopo gli spettatori Children e Teenager per la proposta del barbiere di Sivilla Young Version, a cui eseguirà il mese prossimo il giovane Artù con musica del maestro Nicola Scardicchio.